Ciao, sono Roberto Guido, Presidente di Italian Linux Society e siamo oggi qui a Mergit, che è il primo esperimento di conferenza che riunisce tutte le realtà del mondo open italiano, quindi open source, ma anche open data, cultura libera, diritti digitali e libertà digitali. È un esperimento, direi che è andato anche piuttosto bene, spero che non sia l'unico tentativo, ma l'importante è averci provato, esserci incontrati, esserci conosciuti molto spesso si tratta di persone che non si conoscono di persone, quindi è importante anche essersi visti di persona, aver bevuto e mangiato insieme, vedremo a seguito di questa esperienza come riusciremo a portare avanti questo progetto, ma sono sicuro che a seguito di questa giornata già alcuni rapporti si considereranno nei prossimi mesi.